ciao a tutti ciao a tutte è tutto il giorno che che penso al momento più adatto per salutare maria giovanna maglie che che in questi in questi anni ha ci ha insegnato un po tutti a combattere una giornalista combattiva tenace che che ha sempre lottato per la libertà e non ha mai non ha mai avuto il timore di dire quello che pensava e l'ha detto era in te era molto intelligente era molto combattiva è morta ci ha lasciato a 70 anni e ne stanno chiaramente parlando tutti da questa mattina che io cerco veramente un minuto per per parlare di lei qualche minuto da spendere per lei e più che altro cercando un modo giusto per farlo secondo me non è potrebbe essere inadatte le le mie parole le parole di chiunque altro per per descriverlo per parlare di lei e per questo ho pensato di fare una cosa un po diversa dagli altri e raccogliere le sue frasi più importanti e ricordarle insieme a voi per per salutarla con quelle che sono le sue parole quello che era un po lei è un dispiacere è stata una grande in diversi mi avete scritto oggi non ho evitato proprio di rispondere perché perché volevo proprio tenermi questo momento insieme a voi e senza senza essere obbligato a dire a fare nulla di particolare tranne che ricordarla e ho trovato le frasi ho trovato le frasi vorrei vorrei ricordarla proprio con le sue frasi nulla di più e nulla di meno le frasi più importante di maria giovanna maglie quelle frasi che l'hanno caratterizzato come una guerriera testo una volta ribelle sicuramente vogliosa di libertà mi dispiace tanto perché perché era una donna con la d maiuscola e libera e vogliosa di di libertà che è che ha cambiato idea più volte nella sua vita è una frase sua e chi che ricorderò sempre che ho fatto anche mia è quella che solo uno stupido non cambia idea allora andiamo a leggere le sue frasi frasi le frasi più importanti ragionando alla foa chiamai la volpe dissi stiamo spendendo un sacco di soldi di alberghi risparmiamo mettiamo su un piccolo ufficio uno stringer arabo un traduttore una segretaria la volpe disse di sì la ministruttura ci con consentì grandi risultati il giorno che saddam hussein pensate saddam hussein dichiarò la resa l'unico tg che aveva un traduttore arabo era il nostro in diretta lessi il discorso di saddam maria giovanna maglie questa era spettacolare un'altra frase che mi è rimasta particolarmente nel cuore non sono mai riuscita ad attaccarmi emotivamente a qualcuno io sono una zingara non ho capacità di mediazione con gli uomini i parenti e la famiglia va bene un personaggio amici era veramente un personaggio mi piace il cuore perché era veramente un grande personaggio per quest'altra frase come dicono i russi ascoltate come dicono i russi se non sei comunista a vent'anni non hai cuore se lo sei a 40 non hai cervello ve la ricordate questa frase questa è bellissima disse lei la maria maria giovanna disse come dicono i russi se non sei comunista vent'anni non hai cuore se lo sei a 40 non hai cervello questo serve ad esempio la gelene and company un messaggio è una frase sua che rimarrà nella storia un'altra bellissima frase perché fare finta di essere quello che non eri solo gli imbecilli non cambiano idea questa rimarrà questa rimarrà e l'ho fatta l'ho fatta mia come tanti di voi l'hanno fatta l'ha fatta vostra l'avete fatta vostra in tanti questa prende la valte veltroni culo di pietra influente simpatico e sfuggente kennedy se l'ha inventato dopo per creare il nuovo veltroni il new post comunist era era così lei giuliano questa è relativa giuliano ferrara giuliano ferrara dice che sono una rompicoglioni perché non sto mai zitta quando dovrei sono sprezzante orgogliosa e presuntuosa maria giovanna maglia anche questa è una frase stupenda e il grande giuliano ferrara diceva questo che era una rompicoglioni perché non stava mai zitta questa è una frase che mi è rimasta particolarmente nel cuore che vorrei fare vorrei proprio un attimo d'attenzione per questa non voto più a sinistra mi hanno provocato cocenti delusioni ma ho problemi a votare a destra non voglio morire democristiana e non è morta democristiana è morta libera quindi una preghiera per per la sua famiglia e soprattutto un riposo in pace maria giovanna maglia che te lo meriti sono passata questa è questa è favolosa sono passata per la grande ladra del giornalismo italiano ma sono solo un apprendista che non è mai riuscita a mettere in pratica gli insegnamenti questa frase la sento molto mia io per esempio non permettevo che si spaccassero le telecamere per imbrogliare sulle spese di ripartizione come facevano tanti moralisti di oggi vabbè con questa che dire maria maria se n'è andata se n'è andata se n'è andata un pezzo della nostra storia giornalistica italiana maria giovanna maglia se n'è andata e riposa in pace maria giovanna i tuoi le tue frasi rimarranno nella storia rimarranno nella storia e tante di queste le abbiamo fatte nostre si può cambiare nella vita lei l'ha dimostrato più volte si può cambiare si può cambiare anche in base a quello che ti propone la politica quello che ti propone la vita quotidiana quello che ti propongono da comunista è morta non da democristiana maria giovanna facciamo un applauso a ribosa in pace ciao buon viaggio buon viaggio Grazie.